I soldi che non bastano mai, i conti che è sempre più difficile far quadrare. La crisi non risparmia nessuno e sono sempre più numerose le famiglie che non arrivano a fine mese. Gente normale, per bene, costretta a privarsi anche dei beni di prima necessità, come generi alimentari. A Palermo, nella borgata di Tommaso Natale, un concreto e lodevole gesto di solidarietà. Il panificio La Spiga d'Oro ogni sera mette a disposizione i prodotti non venduti, donandoli a chi non è più in grado di acquistarli. Da cinque anni che noi abbiamo il panificio e da cinque anni che nonostante facciamo delle beneficenze continuiamo a buttare cibo. E il mio cuore non sopporta questo, non sopporta vedere la gente morire di fame e sera per sera buttare nei cassonetti in primis il mangiare. Noto sempre di più persone anziane che comunque vanno a rivistare nei cassonetti sia dopo la fine dei mercati che la sera. La sera, soprattutto quando i commercianti, tutti quanti chiudiamo, quindi dalle frutte e verdure al panificio ed altro, vanno a buttare tutto nei cassonetti. Quindi siccome la povertà è in aumento, e questo è un qualcosa che io ho sempre fatto privatamente, oggi ho deciso di rendere pubblica la cosa solo ed esclusivamente per sensibilizzare gli altri commercianti che come me buttano tutti gli avanzi. Grazie.